Anticipazioni Beautiful. Thomas non è figlio biologico di Ridge, ma è figlio di... Benvenuti nel nostro canale. In questo video di anticipazioni delle puntate americane di Beautiful vi riveleremo un fatto incredibile che i fan si possono aspettare nei prossimi mesi. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Thomas non sembra essere legato né a Ridge né ai fratelli Forrester. Ridge ha sempre pensato di aver semplicemente generato un figlio astuto e agitato. Thomas, fin dalla sua infanzia fino all'età adulta, Thomas ha sempre creato problemi agli altri, mentre Steffi ha vissuto una vita molto tranquilla. Il fatto che la personalità di Thomas sia completamente diversa dagli altri membri della famiglia è un altro indizio che ci porta alla verità. Questo segreto è stato nascosto per decenni. Tutti infatti pensano che Thomas abbia un problema psicologico e per questo commetta spesso errori, ma in realtà ora sappiamo che non è così. La personalità di Thomas è ereditata dal suo padre biologico. Taylor aveva conosciuto precedentemente un uomo mentre era sposata con Ridge e questa persona la conosceva anche Ridge. Questo uomo è Pierce Peterson. Pierce amava molto Taylor e anche Taylor aveva dei sentimenti per lui, ma in quella situazione Taylor si rese conto che anche se lei e Pierce si amavano, non avrebbero potuto avere un lieto fine. Non solo, Taylor sembrava dover porre fine a questa relazione amorosa il prima possibile, altrimenti sarebbe diventato molto complicato quando Ridge si fosse accorto di tutto. Alla fine, Taylor fu costretta a lasciare Pierce per rimanere fedele a Ridge. Pierce e Taylor si conoscevano perché Taylor lavorava nella clinica di Pierce. Pierce era un bravo psichiatra e Taylor ammirava molto il suo talento. Inoltre, Pierce aveva una particolare abilità nell'ipnotizzare gli altri. Lui amava Taylor e decise di non voler sopportare un fallimento, quindi Pierce approfittò del fatto che Taylor fosse in clinica con lui per ipnotizzarla. Pierce voleva fare di Taylor la sua donna, anche se solo inconsciamente. Taylor cadde rapidamente nella trappola di Pierce e non era consapevole di quello che stava facendo. Pierce fece sesso con Taylor e il risultato fu la gravidanza di Thomas, il figlio di Pierce. Ma lei pensava che il bambino nel suo ventre fosse di Ridge durante l'ipnosi. Finché non tornò in sé, Taylor non aveva assolutamente ricordi di ciò che era accaduto e, ovviamente, Taylor non sapeva di aver fatto sesso con Pierce. Successivamente, scoprì di essere incinta e diede per scontato che fosse la gravidanza di Ridge, ma la verità non era quella. Pierce si pentì molto del suo comportamento, perché aveva violato l'etica professionale e stuprato Taylor. Ciò lasciò Pierce senza dignità e per questo decise di lasciare Los Angeles per sempre portando con sé quel segreto. Forse Pierce sapeva che il bambino che Taylor stava portando era suo e ora sembra che Pierce possa tornare a Los Angeles e riprendersi Thomas, così l'intera verità verrà rivelata.